Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, siamo tornati con il nostro impero bizantino e siamo tornati nella nostra super partita che punta a diventare l'impero romano. Prima di incominciare vorrei un pochettino però parlare con voi. Prima cosa, all'alba dei 427 iscritti, il momento in cui sto registrando questo video è questo, io vi domando, vi sta piacendo davvero la serie della guerra degli iscritti? Non vi svelo ancora nulla, cioè almeno non vi svelo lo scenario perché quello sarà lo speciale dei 500 in cui vi spiegherò bene un po' tutto il regolamento e le varie cose. Ma una cosa importante, in questi giorni, settimane ho cambiato un pochino il format della serie, cioè tutto era nato con io che controllavo l'impero del sole, l'impero che coincide con l'Italia, poi però ho deciso di affidarla ancora di più al caso e ho cambiato qualche cosetta. Prima ero partito col mondo intero, ora mi sono ridotto con l'Europa perché ho capito che se vi piace possiamo scegliere tutti gli stati e qui nasce il problema. Non vorrei lasciare stati con l'intelligenza artificiale, cioè stati non creati, quindi vorrei che un pochettino di gente che ancora non si è fatta sentire proponesse uno stato, più che altro perché abbiamo regni bellissimi, abbiamo il mio impero del sole, abbiamo un impero russo molto potente, imperi tedeschi, abbiamo addirittura la Sardegna del Nord, vi svelo solo qualche nome, abbiamo anche il Regno dei Polli. E quindi perché lasciare per esempio la Macedonia così, senza niente? Cerchiamo magari di creare qualche stato, non li volevo creare io, anche perché ancora sto riscuotendo consensi. E poi seconda cosa che un po' si discosta del mondo di Age, all'alba sempre dei 427 iscritti io mi domando, per adesso il canale va bene, aumento di un po' di iscritti al giorno e per adesso so che questo è una cosa buona, però portando sempre questi contenuti, quale potrà essere il limite del canale? Mi spiego meglio, vorreste vedere qualcosa di diverso oltre a Age? E se sì cosa? Perché io finora mi sono concentrato su questo, perché voi mi avete sempre detto che vi piaceva, ma sotto nei commenti ditemi magari qualche altro gioco che potrei portare, che vi piacerebbe vedere, cioè l'unica alternativa che al momento vi propongo, ma voi ditemi nei commenti, cioè ciò che vi posso dire io è potrei portare Clash Royale, in passato lo portai proprio agli albori del canale quando avevo 17 iscritti, poi però siccome non riscuoteva consensi, facevo 5 visualizzazioni a video contro le 500 di questi, ho deciso di abortire il format, ma se volete posso portare Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, qualunque cosa magari ne discutiamo un po', magari viene fuori qualche bella idea, comunque potete anche iscrivermi su Discord, mi trovate come cirilgrande4797, spero di ricordarmi bene. Ci sono già due iscritti che lo hanno fatto e comunque mi hanno dato un'ottima idea, per esempio il Signor Austria, che chiameremo Signor Austria, non è questa Austria tranquilli, è l'Austria quella là del mondo moderno, mi ha dato l'idea della guerra degli iscritti, e quindi adesso questa serie esiste grazie a lui, che trovate anche nella sezione commenti, salvato come TheDavid o TheDavid che sia, con la foto di Vegeta, e poi anche ZeroNight, mi ha scritto su Discord e mi ha dato delle ottime idee. Ma comunque, dopo una premessa bella grande di ben 3 minuti e mezzo, inizia ora il video, spero di non avervi annoiato, e, visto che non ce lo siamo scordati, abbiamo ancora una guerra col Sultanato Mamelucco da finire. Annessi questi territori, poi chiederemo loro la pace. Vediamo come va. Perfetto, loro ora continueranno ad attaccare fino a quando non gli chiederemo la pace. Qua chi c'è? Qua c'è il Ramazan. Quindi qua dovrei reclutare con coscrizione 578 truppe, così si muovono tutte. Ah no, perfetto. E ora gli devo chiedere la pace. Cioè dopo avergli preso questa provincia gli chiedo la pace. Perfetto, hanno accettato la pace, così possiamo concentrarci solo sugli ottomani. Subito guerra all'oro e cerchiamo di terminarli subito. Perché così finiremo ufficialmente le guerre contro gli ottomani e potremmo concentrarci su qualcosa di bello. Di bello, oddio. Di non così monotono, volevo dire. Vediamo come vanno queste guerre. Vabbè, ormai siamo noi la potenza dell'Anatolie. Guardate, non oppongono nemmeno resistenza. Però mi dà fastidio che stiano annettendo territori pure... Come si chiamano? I suoi mamelucchi qua. Anche perché noi non avremo da combatterci. Cioè se abbiamo annesso tutti i territori che ci servono, non abbiamo più da combattere con loro. Vediamo. 94% hanno perso un territorio buono. Perfetto, 100%. Chiediamogli una bella pace in cui ci prendiamo tutto sto giro. Possiamo. E quindi direi... Stipulata la pace, possiamo già terminare la questione Anatolia. Quindi assimiliamo tantissime province, visto che possiamo. E consultiamo la nostra mappa. Ora siamo noi, penso, i primi. Abbiamo il 20% dei territori richiesti. E c'è adesso da salire un po'. Quindi le prossime operazioni, poi... Accumulato un po' di oro, sarà attaccare qualcun altro. Mentre qua però potrei prendere tanti nemici qua vicino. Per esempio... Se attendiamo un po' di turni posso prendere Mantua. Oh, chi ci dichiara guerra? Alcoyung e Cipro. Cipro lo volevo già attaccare, però... Ho detto no, magari non fa parte del nostro progetto. Quindi ora attacchiamo anche Cipro. Con le... Con delle truppe che mettiamo a posto da Atene. Muoviamoci a Cipro e annettiamo Cipro. Con i soldi che restano... Quante province restano da assimilare? Ancora tante? Spero di no. Credo di aver finito. No? Eh... No, non devo cambiare il nome di Venezia. Le truppe da qua le muoviamo qua. E queste da qua pure. Così finiamo anche l'invasione. E da Venezia... Da Treviso possiamo reclutare bene, mi sa. Vediamo. Andando qua finiamo... Oh... Cipro resiste molto più di quanto mi aspettassi. Comunque ho scoperto recentemente che il pallino col numero rappresenta la forza della civiltà. Ci dice chi è più forte di noi. Adesso c'è un numero due. Salvando vediamo che numero compare. Se cambia... Siamo la seconda potenza mondiale. Buono. Mondiale del tempo. La prima non so chi è. Quindi dopo aver salvato nuovamente perché serviva. Non ci fa reclutare a Treviso. Perché non è nostra, ovviamente. Infatti sono un idiota io. Ma da Verona possiamo. Quindi con il potere di 5.000 truppe attacchiamo Mantua. Mantua appunto. Doppia invasione. Doppio successo. Qua sotto terminiamo. E qui annettiamo subito Mantua. Veloce, veloce. Perfetto. Ora è il turno di Cipro. Grazie per averci attaccato. Ci hai fatto prendere un territorio gradito. Perfetto. Continuano le assimilazioni. E appena finiranno ci scateneremo su Mezzomondo probabilmente. Prima di tutti la Serbia. Oppure qualche chi combatte. Firenze contro Roma. Lo Stato Pontificio come sempre si riduce a un territorio. E ora noi potremmo già attaccare qualcuno di potente. Non credo l'Austria ma la Serbia già sì. Quindi aspettiamo un po' di turni tipo questi. Niente ho deciso che quando capitano queste cose le lascerò nei video. Basta. Editarmele poi succede che si creano anche degli effetti strani come è successo negli scorsi video. Quindi sti suoni li lascio, non li tocco. E li metto come stare qui nel video. Tanto voi li individuate tutti perché siete speciali. Quindi se trovate questo suono fatemelo sapere. Che io vi lascio un cuoricino più speciale nei commenti. Perfetto. Avendo messo degli eserci di forti possiamo già attaccare la Serbia. Abbiamo in serbo tante belle cose per loro. Compresa questa bellissima battuta che gli dedico. E procediamo subito. Tanto la Serbia fa parte dei nostri piani. Anche se già vi faccio vedere come le invasioni si complicheranno ora col tempo. Quindi super debitone che ormai ammonta a 20.000. Ci possiamo permettere cose davvero assurde. E poi qua ripieghiamo. Evitiamo di essere troppo fermati. Perfetto. E ora risaliamo. Anche se stiamo combattendo con nemici non molto forti. Infatti la Serbia è tipo la trentesima potenza mondiale per il gioco. Abbiamo qualche difficoltà se mettiamo poche truppe. Ma adesso tutto è in discesa perché loro le truppe le avevano probabilmente solo al confine. Quindi i giochi sono già finiti. Iniziamo a muovere truppe qua sotto. Perfetto. E la Serbia dovrebbe essere stata invasa tutta. Perfetto. Quindi Serbia annessa. In un colpo solo. Dubronica ha solo due province. Ci dichiarano guerra a due territori diversi. E sono la dinastia Hafsid là sotto che non possiamo attaccare. Perché rientra in Africa. E il Ria Zan che ha 11 province. Dove si trova questo Ria Zan? Ah qua sopra è un territorio sperduto che non ci interessa. Doppia pace. Siglata. E guerra con la Valacchia. Hmm. Non so. Non vorrei attaccare la Valacchia perché non rientra nei piani. Però sapete cosa? Perché no? Cioè. Ora gli domando un solo tentativo di pace. Se accettano? Bene. Se rifiutano? Cavoli loro. Ora che hanno annesso anche un territorio ha maggior ragione. Cioè io faccio partire tutte le invasioni. Che tanto non andranno in porto. Gli chiedo la pace. E se rifiutano? Ecco appunto. State al vostro posto per favore. Poi qua si assimila tutto l'assimilabile. Quasi quasi proprio per perdere. Per non perdere troppo tempo. Prendiamo un debitone sempre più immenso. E usiamolo per assimilare. Cioè proprio al prossimo turno assimileremo. Solamente. Nel mentre siamo arrivati al 1485. Tra poco verrà scoperta l'America. Non so se nel gioco funziona così ma cambia anche l'era. E dichiariamo guerra ragusa. Che non è un capoluogo di provincia della Sicilia sotto Siracusa. Ma è appunto uno stato del 1440. Battuta a parte o almeno considerazione personale a parte. E vittoria anche. Abbiamo battuto anche Dubroni, Caracusa. E muoviamo tutte le truppe del caso. Quindi queste qui. Poi queste le muoviamo qua. Queste al prossimo turno ci penseranno. Queste vanno qua. Novi pazzarri. Ancora si recluda male. Quindi mettiamo delle truppe da Atene. Tante truppe da Atene. E muoviamole. Qua. 1700. E qua. 1900. E abbiamo finito. Facciamo così. Mentre prendiamo un po' fiato. Tempo che le truppe arrivano. Noi. Assimiliamo. Ma probabilmente dopo la Bosnia ci fermiamo. Perché se no l'impero romano ce lo mangiamo subito tutto. Perfetto. Queste truppe qua le mettiamo qua di ripiego. E subito subito. Bosnia ci dice addio. Ci dirà addio. Anzi. Quindi qua saliamo. Qua pure. Qua anche. Qua che fa i tene privi. E qua si conclude il lavoro. Se guardate qua. Loro non hanno più tutte queste gran truppe. Cioè fatto così. Dubito riusciranno a fare qualcosa. Cioè se ci riescono tanto di cappello. Appunto. Come non detto. L'Ungheria è stata scannata male. E quindi subito. Le truppe le saliamo. E appena dividiamo l'ultimo pezzettino. Si attacca anche. L'Ungheria. Che tanto è in mezzo alla strada. Voilà. Con 44.000 ori. Subito. Assimiliamo. E vediamo a che punto siamo. Siamo già al 27%. Direi che. Dopo. Dopo l'Austria. O almeno. I territori che ci servono nell'Austria. Quali sono? Fino a qua sopra. Quindi ci saliamo tutta l'Austria. Ma non ci riprendiamo tutti. Quindi subito guerra. E saliamo. Qui non sprechiamo troppe truppe. Qui dobbiamo. Ah forse non abbiamo difeso bene Pula. Ah no. A posto. Beh qua basta concentrare le truppe in un unico posto. E basta salire un po'. Vediamo a Ottica Impero Romano se hanno ancora territori. No. Quindi bella pace con l'Ungheria e gli lasciamo vivere. Perfetto. E allora nel prossimo video. Anzi ora prepariamo le invasioni per il prossimo video. Il prossimo video si invadrà subito. Il Ferrara. Anzi non subito. Dopo aver sistemato le truppe. Poi con i due. Con i tre territori rimasti. Venezia. E quindi mettiamo delle truppe anche da qui. Quindi farei così. Nel prossimo video attaccheremo contemporaneamente. Parma e Piacenza e Venezia. E poi non saprei. Qua nel frattempo c'è una guerra che non finisce più. Tra Roma e Firenze. Ed esiste un solo modo per farla finire subito. Perché così almeno. Quando ci arriverà il momento potremo attaccare subito. Potremo attaccare subito. La zona richiesta della. Del Lazio. Quindi aspettiamo che la Francia invada lo Stato Pontificio. Sembra che lo Stato Pontificio non si riveli una sorpresa. Perché ho paura di questo. Cioè lo Stato Pontificio sta prendendo tutti i territori. E noi siamo la prima potenza al mondo. Vediamo come va. Mentre. Va bene. Abbiamo fatto da spettatori per abbastanza tempo. Credo di aver anche assimilato tutto. Per il momento. Quindi. Qua giù. Non c'è nulla da fare. Abbiamo detto. L'Italia è da prendere tutta. Così come Spagna e Francia. E anche qualcosina della Moldavia. Moldavia che noi potremmo attaccare. Non in questo video ovviamente. Ma facendo così. Poi mettendo. 1700 qua. 2300 qua. E poi così. Va bene ragazzi. Il da fare nel prossimo video non manca. Ci approfitteremo della debolezza dell'Italia. E della sua disunione. Per invaderla tutta probabilmente. Voi mi raccomando. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina per seguire le novità. Lasciate tanti 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 mi piace. E noi ci vediamo con un prossimo video.